Ciao a tutti e benvenuti, miei cari pollicini! E bentornati in questo nuovissimo video delle poesie. Oggi vi dirò la poesia di Carnevale. Allora, siete pronti? Iniziamo! Vorrei una maschera così spaventosa che trami la gente più coraggiosa da strega o fantasma, da mostro vampiro da scheletro bianco che vaghi in giro negli alberi spoichi, nel lume lunare così che la gente si metta ad urlare. E nessuno sappia che il più spaventoso di tutti i costumi ce l'ha il più pauroso! Allora, mi è piaciuta? Mettete tanti pollici in su! Iscrivetevi al canale! Condividete con tutto il mondo! Ci vediamo al prossimo video! Ciao!